Ciao a tutti, sono Barbixanax, oggi volevo parlare con voi di gli Oscar avevo fatto già un altro video subito al ritroso, no al ritroso no, subito dopo la nomination però non avevo visto la maggior parte dei film, alcuni sono incazzati a bestia non ci piace questa professionalità, questa mancazza di professionalità alcuni mi hanno scritto che sembrava tipo che, non lo so, avessi parlato un po' a volte non capisco queste reazioni un pochino concitate dalle persone però va bene visto che alcuni film li ho visti, non tutti, perché alcuni devono ancora uscire in Italia di Borum, che uscirà dopo gli Oscar, che senso c'ha? o perché pensano che già vinceranno l'Oscar, quindi dice così, so vedono più persone oppure, boh, non lo so, ora ci sarà il nostro Toto Oscar e iniziamo subito con i miei nominati, parliamone un pochino insieme voi ditemi per quale fate il tifo, ne parliamo, soprattutto parliamo di Nonato Di Capra però ditemi se voi avete visto altri film, perché adesso magari anche voi ne avete visti di più io ne ho visti di più rispetto a quel vecchio video laggiù, che non è professionale parliamone, allora, come miglior film, leggiamo un pochino allora, c'è la grande scommessa che ho ancora dovuto vedere, ma come sapete io non ho una vita poi c'è il punto delle spieghe, che io non so perché, ma dall'altra parte Google me lo dava come nominato St. James Place, il nome originale è Bridge of Spies perché? vabbè, di Steven Spielberg, poi c'è Brooklyn, che uscirà non si sa quando Brooklyn, boh, io ho visto dei pezzetti, voi mi avete detto che è bellissimo a me pareva un po', boh, una roba in costume dove c'è sta tizia che rinsegue il sto tizio per cui sei infatuata, cioè, magari non ho capito niente, eh, per carità non ho visto il film, non ho visto il trailer, nemmeno con troppa attenzione perché in genere non voglio vedere i trailer, non voglio vedere niente io sono una psicopatica degli spoiler maniaca, è troppo poco da dire sinceramente non mi emozionava, mi avete detto che è bellissimo io però, boh, ho visto delle cose, però mi sembrava un po' una roba noiosita cioè, mi sta a venire pure il prurito, eh, questa è la sensazione, oh mio dio, no vabbè, ditemi, non ho capito un cavolo non avendolo visto poi c'è Mad Max Fury Road poi c'è Il Sopravvissuto, The Martian, di Ridley Scott poi c'è Reddivo, The Ravenant Reddivo è proprio brutto come titolo italiano, eh, diciamolo Ravenant era più figo c'era una band industrial che si chiamava The Ravenant che mi piaceva un sacco c'aveva questa canzone che è Like Tears in the Rain che è bellissima, però se vi piace l'industrial altrimenti vi farà schifo quindi, mmm, poi c'è Room, candidato e poi il caso Spotlight, che poi io non lo sapevo mai il caso Spotlight è avuto un casino qui in Italia con il Vaticano perché in pratica parla di abusi nel mondo della Chieda ed è trattata da una storia vera io ho visto un documentario su Netflix molto molto bello al riguardo che si chiama A me a massima colpa che parla proprio di questo di come degli uomini adulti abusati da bambini da rappresentanti dalla Chiesa quando stavano in un collegio e loro erano sordomuti c'era questo padre che insomma stuprava proprio quei bambini che avevano i genitori che non capivano il linguaggio dei segni così questi bambini rimanevano letteralmente lì che non potevano parlare con nessuno si è scoperto durante questa battaglia in tribunale che insomma la Chiesa anche Papa Ratzinger i che aveva la Chiesa sapevano e non hanno mai denunciato il fatto c'era addirittura un caso in Irlanda di un religioso che aveva stuprato 200 bambini cioè ho i brividi la pelle tocca solamente a dirvi queste cose insomma in Italia è stato un po' casino perché il Vaticano non ha apprezzato questo caso io dico ma secondo voi caro Vaticano buttare la polvere sotto al tappeto risolvere cose secondo me no è possibile che tutte le persone possono sbagliare chiamiamola così in maniera molto gentile però la vera differenza di chi vuole rimediare gli sbagli altrui è tentare e fare in modo che si ripropongano non facciamo finta che tutto ciò non esiste non so addirittura a osteggiare dei film che parlino di cose vere cioè veramente io non l'ho visto il caso Spotlight sono molto curiosa di vederla perché mi piace molto Mark Raffaro mi piace anche Rachel McAdams quindi boh Rum non vedo l'ora di vederlo c'è il bambino di Rum che è tipo adorabile voi dovete vederlo io l'ho visto lo seguo su Instagram lo seguo su Twitter è adorabile avrà tipo 5 anni non lo so lo voglio adottare assolutamente e praticamente scriveva su Twitter tipo con chi volete la foto la gente gli ha scritto la foto con la di Gaga e c'è lui e la di Gaga ha una faccia tutta così un po' snob lui piccolino tutto felice tutto così con la di Gaga una tenerezza manda messaggi addirittura contro il bullismo c'è adorabile il bambino che vorrei grande scommessa come vi ho detto non l'ho fatto in tempo a vederlo non l'ho visto praticamente niente The Raffaro secondo me ha un film bello ma non da Oscar non da miglior film e onestamente io faccio il tifo per Mad Max anche se me l'ho detto che il room è bellissimo praticamente tutti e la grande scommessa pure però room io tifo per altre cose per room tifo Mad Max perché secondo me è veramente figo è molto simile al cinema di non Ridley Scott come si chiamava il fratello di Ridley Scott ricordo quello che ha fatto anche Domino che è molto figo se vi è piaciuto Mad Max per la regia e il montaggio eccetera guardatevi anche Domino super adrenalinico e secondo me questo è un tipo di cinema secondo me nuovo tra mille virgolette molto simile al cinema dei primi anni del novecento e secondo me è una realaborazione molto molto figa soprattutto nei molti temi ci sto un pochino studiando a riguardo quindi quando avrò delle informazioni un pochino più strutturate se volete mi farò anche un video a riguardo perché sto facendo delle discerche eccetera eccetera vorrebbe finesse Mad Max così anche per rompere diciamo il film di largo pubblico può essere una merda può essere anche una figata può essere fatto da maestranze chi ne sanno ci possono essere dei messaggi anche rivoluzionari sotto un certo punto di vista Mad Max combatte contro il patriarcato per eccellenza e quindi sarebbe veramente una vittoria che è furiosa Charlie Steron che vince per la seconda volta yeah anche se non vincerei però vabbè in parte sì nel mio cuore sì quindi tifo per Mad Max però secondo me vincerà Rum me lo sento miglior regia c'è Rum Lenny Abramons The Revenant il caso Spotlight la grande scommessa e poi Mad Max puricolta assolutamente Mad Max la miglior regia secondo me però sono curiosa di rivedere anche la grande scommessa perché non l'ho visto Rum ma non mi sembra una regia wow non lo so io scacciando sto vizio che nominano un film per 500 categorie sembra come se ci fossero tipo 5 film in tutta Hollywood vabbè The Revenant no la regia era veramente un no hai fatto di meglio i nervi tu ti vogliamo bene sei simpatico però adesso scendi dal piedistallo e rimettete al lavoro perché non siamo ai livelli di bubble quindi sinceramente come miglior regia secondo me è Mad Max anche il montaggio era una figata per Mad Max però po' se il room è stato meglio o la grande scommessa è stata meglio ditemelo il caso spotlight a me non sembra sinceramente una regia che dice oh che figata questa trovata a me no cioè nel senso la regia di Johnny se Johnny Johnny Lee Miller quello di George Miller è fighissima in Mad Max perché ha un numero di inquadrature sconvolgenti cioè tipo il doppio rispetto a quelle normali di un film e quindi ha veramente un lavoro diverso ecco andrebbe premiato migliore attore protagonista Brian Carson con l'ultima parola la vera storia di Dalton Trumbo Matt Damon con il sopravvissuto a me sopravvissuto mi pare proprio un'americanata spicciola magari è fighissimo ma per carità però boh non lo so non mi convince devo ancora vederlo Leonardo DiCaprio con The Revenant Michael Fassbender con Steve Jobs Eddie Raidman con The Renish Girl allora io tipo per Eddie Raidman sempre sempre e comunque pure se sta a fare tipo un concorso al supermercato per vincere un prosciutto intero io faccio il tipo per Eddie sempre visto che Leonardo DiCaprio è un po' una barzelletta secondo me non so secondo me è un po' spregato che gli danno l'Oscar a questo film dove diciamolo non è che sia dei migliori ha fatto di meglio secondo me è pure un po' una merdata che ti danno l'Oscar dopo che ti sfatto un culo così per miliardi di film fighissimi poi fai una mezza merda e ti danno l'Oscar cioè ci rimane un po' male almeno secondo me cioè boh d'altra parte Michael Fassbender in Steve Jobs sì è stato bravo però abbiamo visto di meglio abbiamo visto Shame abbiamo visto tanti altri aspetti dove è stato decisamente meglio però non so Michael Fassbender ha vinto già un Oscar mi sembra di sì se l'ha già vinto puoi anche essere scardato Matt Damon ha avuto momenti migliori The Martian sinceramente non è che mi pare proprio sta punta di diamante l'abbiamo visto in parte migliori si merita lui un Oscar sì in generale sì però insomma su The Martian a me pare un po' una puracciata la versione sfigata di Interstellar sembra poi non lo so non l'ho visto non l'ho visto nemmeno il trailer però da quell'aspetto non lo so perché è fighissimo magari Ed Redman però l'ha vinto l'anno scorso per la teoria del tutto quindi fanno fare la combo secondo me no non glielo danno l'Oscar e secondo me invece l'Oscar lo daranno lo sapete a chi? a Brian Creston perché è un pochino il nuovo attore di punta di Hollywood lui ha avuto un grandissimo successo con Breaking Bad si è fatto anni di lavoro di qua e di là con Malcolm in the Middle che era una figata non se l'è mai cagato nessuno ha raggiunto il successo con Breaking Bad e tutti oh Brian Creston prima nemmeno sapevano come si chiamava era il padre di Malcolm e quindi secondo me visto che ora è un attore di una certa nicchia che ha un certo peso per quello che dice e tutto come si comporta i lavori che fa secondo me gli faranno vincere un Oscar in genere gli Oscar fanno sempre un pochino così se fanno una cosa magari anche anni prima che ci ha avuto successo però non te l'hanno potuta premiare in genere te la premiano dopo e quindi secondo me l'Oscar andrà a Brian quindi Eddie Borello si attacca anche se io ti regalerei tutto Eddie ti premierei per qualsiasi cosa poi c'è Leonardo DiCaprio che probabilmente si attacca un'altra volta anche perché se non è scontato se non lo premiano è scontato se lo premiano è scontato quindi secondo me faranno Brian perché si sta costruendo una certa importanza a Hollywood e gli manca una certa consacrazione andiamo a migliore attrice protagonista però io non l'ho vista Drew Trumbo 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 migliore attrice protagonista è candidata è candidata Cain Blanchett con Carol Brie Larson con Room Jennifer Lawrence con Joy Charlotte Rampling con 45 anni un uomo che non so dire Ronan anche per Brooklyn allora Brooklyn l'abbiamo già smerdato abbastanza Charlotte Rampling ha detto una mezza razzistata a proposito degli Oscar so white gli hanno detto beh ma secondo lei gli Oscar sono un po' razzistelli e lei anziché di guarda gli attori neri mi chiamano mai mi fanno solo sparsi storio di padre ha detto una bella cosa razzista quindi Charlotte Rampling per me puoi pure tornare alla tv francese a fare delle vendite se fosse per me poi Jennifer Lawrence che si è bravina però un altro Oscar gli volevo dare uno è già troppo secondo me Kate Blanchett ha vinto già un sacco di Oscar fosse per me anche lei vincerebbe pure il prosciutto al supermercato però faranno vincere Brie Larson io tipo per Kate Blanchett e Carol che era molto felina con questi occhi tutti così a me lei piace molto questi occhi così piccoli però così belli quindi boh non lo so sono una fan di Kate Blanchett bellissima lei come Eddie Raidman è riuscita a essere è una di quelle che riesce a essere bella bella nel senso sensuale anche in un genere sensuale diverso lei tipo ha interpretato Bob Dylan in io non sono qui ed era bellissima cioè non so come sia possibile va bene voi fatemi sapere per chi fa del tifo secondo voi chi vincerà e per chi ti fate quindi vi ho detto secondo me Brie Larson perché è un po' nuova stanno un po' affrantumato il fatto che è stato bravo sembra effettivamente bravo per carità tutti hanno sentito dire che effettivamente è stata bravo però insomma un po' scontatello miglior attore non protagonista Christian Bale con la grande scommessa Tom Hardy con Revenant redditivo sinceramente no io nemmeno avevo capito quale fosse Tom Hardy ve lo dico sinceramente infatti vedevo sto film e dico ma quando arriva Tom Hardy l'ho nemmeno riconosciuto vabbè Mark Raffalo con il caso Spotlight Mark Rylance con Ponte delle Spie Silvester Stallone con Creed nato per combattere allora se vince Silvester Stallone io ve lo dico cioè no cioè veramente se prendono Oscar Silvester Stallone no io vado a vendere i prosciutti allo Shan mo sicuramente vince e io faccio pure la figura di merda che non vado a vendere i prosciutti allo Shan Christian Bale si carino figo però insomma non siamo in American Psych si almeno c'era era lui il protagonista di American Psycho oddio oh no si si oddio li confondo io i nomi non riesco a distinguerli va bene Tom Hardy come avevo detto no secondo me è stato meglio in Mad Max anche lì era praticamente non protagonista ma vabbè poi c'era Mark Raffalo che secondo me se lo merita un Oscar quindi io tifo per Mark Raffalo in Ponte delle Spie non l'ho visto spero solo che non vinca Silvester Stallone perché per favore no migliore attrice non protagonista sono candidati Jamie Farrow Jason Lake per The Eightful Eight cioè no è più lunga la telemedita di Mario De Filippi dentro c'è posta per te rispetto a quanto è stata sullo schermo quanti primi piani ha avuto Jessica Jason Lake stesso discorso vale pure per Kate Wieslett che è candidata per Steve Jobs ma non lo so la sua presenza all'interno del film è 40 secondi 4 minuti se ci vogliamo proprio lanciare il sole ha deciso di splendere e darmi la sua benedizione quindi ho dovuto abbassare la luce allora Jamie Farrow Jason Lake no potrebbe essere che la fanno vincere per dare un contentino a Tarantino ma per me è un no Kate Wieslett è stata brava però su sto film insomma c'era 5 secondi in cui si vedeva e insomma non è che ha fatto questa interpretazione sconvolgente anche perché 5 minuti non lo so il personaggio era tipo ovviamente Televenti da De Maria De Filippi e stavamo lì poi c'è Rooney Mara con Carol che secondo me è stata bravissima poi c'è Rachel McAdams con il caso Spotlight la regina George di Mean Girl per chi non lo sapesse per citare i film importanti che ha fatto e poi c'è Alicia Vikander con The Danish Girl allora secondo me il premio se lo merita Alicia Vikander molto probabilmente The Danish Girl non premieranno Eddie quindi forse potrebbero premiare Alicia Vikander però secondo me l'Academy premierà Jennifer Jason Lake perché boh Tarantino ha un po' il rumore quindi farà il suo peso però no non sono d'accordo va bene miglior sceneggiatura originale Joel e Ethan Coen per il Ponte delle Spie poi Ex Machina Inside Out in caso Spotlight Straight Out Compton allora secondo me premiano Inside Out la Disney c'è sempre una certa quota agli Oscar qualcosa vince sempre quindi secondo me boh o premiano i Coen forse premiano i Coen e cosa Inside Out lo premiano per il coso il cartone animato boh miglior sceneggiatura non originale la grande scommessa Nick Corby per Brooklyn oddio no ve lo giuro allora ho capito bene com'è Brooklyn Nick Corby non è proprio nei miei gusti ecco quella roba molto dalle adolescente molto sviolinate per proprio che dici proprio no dopo tre minuti poi spegni e dici no preferisco qualcosa di cinico dove la gente si squarta e basta e quindi molto probabilmente no non credo che mi piacera Brooklyn non lo so ma non credo no io sinceramente non lo posso vedere Nick Corby ci ho provato eh no ci proverò però a guardarlo eh ci proverò alla sceneggiatura non originale c'è Room il sopravvissuto Carol Brooklyn e la grande scommessa potrebbero far potrebbero far vincere il sopravvissuto visto che nelle prove nelle categorie più importanti non se lo cagherà nessuno ma giustamente perché concorre con dei film che sono molto molto più alti oppure potrebbero premiare Carol o la grande scommessa anche perché la grande scommessa secondo me prenderà pochi premi nelle categorie maggiori poi c'è miglior film straniero è l'abbrazzo della serpiente di Ciro Guerra è dalla Colombia anche se sembra tipo non lo so deposillipo però vabbè poi c'è Mustang il figlio di Sol Trib a War allora il figlio di Sol hanno fatto una grande pubblicità anche qui in Italia sono andati pure da Fazio a che tempo che fa vabbè da Fazio non lo so ce va a chiunque ce l'ho rimasta giusto io e la mia vicina che non ci siamo andati inviterà qualunque 3.000 volte al mese con domande a cui servirebbe un autore sinceramente a che tempo che fa se vuole posso anche propormi quelle domande sono un po' secondo me premieranno o il figlio di Solo o Mustang ho sentito parlare benissimo tutti e due degli altri non li ho sentiti per nulla il miglior film d'animazione Anomalisa che io voglio vedere sembra bellissimo il bambino che scoprì il mondo che boh sembra un po' una roba da da rete 4 da dv 2000 sinceramente non mi emoziono non l'ho visto Sean Vita da Pegora anche mi sono emozionata a vedere il trailer quando l'ho visto su Sky Cinema cosa di una certa importanza poi c'è Inside Out e Quando c'era Marmi Quando c'era Marmi non l'ho visto che è di Yone Bayashi secondo me faranno vincere Inside Out o Anomalisa io ti fa per Anomalisa però secondo me la quota Disney c'è quindi o in sceneggiatura o in miglior film d'animazione lo premiano miglior fotografia Sicario sinceramente no chi se ne frega però secondo me lo faranno vincere perché se non sbaglio è lui quello là che è stato nominato un miliardo di volte non ha mai vinto un cavolo è tipo Leonardo DiCaprio della fotografia come miglior fotografia è candidata anche Carol The Hateful Eight Mad Max e The Revenant secondo me Carol no forse anche Mad Max è bella trucida quella di Mad Max comunque di fotografia però per me è figa è molto elaborata quindi voto Carol o Mad Max però secondo me faranno vincere o Sicario tutti gli altri tre insomma secondo me possono far vincere non credo faranno vincere i miei preferiti se Tarantino non viene premiato per altre categorie maggiori chiederanno la cosa della fotografia che è un po' un contentino oppure per il reditivo idem miglior scenografia il ponte delle spie The Danish Girl io voto The Danish Girl già da qua Mad Max pure questa era figa come scenografia poi c'è The Revenant cioè la scenografia The Revenant ma per favore quattro alberi cioè insomma un conto è progetta una cosa un altro conto è raccatta quattro alberi un attimo poi il sopravvissuto The Martian che è stato girato nel deserto pure qui cioè non è che te devi impegnare tantissimo anche qui metà nel deserto però le altre cose sono molto elaborate secondo me sono fighe per adattare qualcosa nel 2016 un gusto tipicamente anni 80 che era bello trash io tipo assolutamente per The Danish Girl però come vi ho detto secondo me premieranno tutta l'altra roba però vabbè io ho questo sentore che secondo me Carol e The Danish Girl non porteranno a casa niente o due cose in croce per proprio l'ultime l'ultime cose ma va bene miglior montaggio la grande scommessa secondo me era figo almeno dal trailer sembrava accattivante il montaggio della grande scommessa quello di Mad Max secondo me era anni luce sopra poi c'è il risveglio della forza il montaggio non era niente di che sinceramente si è fatto la transizione stile George Lucas ma erano anche gli anni 70 amore mio siamo nel 2016 quindi prendere precisamente una cosa degli anni 70 e riproporla non mi sembra la cosa più geniale e super artistica dell'universo il caso Spotlight che a me sembra un montaggio normale niente di che The Revenant che non c'è la sua montaggio chic manco e niente e quindi io direi Mad Max Fury Road molto probabilmente faranno vince o la grande scommessa o The Revenant perché insomma oppure c'è la guada Disney della grande del risveglio della forza miglior colonna sonora il ponte dello spie Carol The Eightful Eight Sicario il risveglio della forza io voto per The Eightful Eight mi è piaciuta molto la scena d'apertura di Morrigone e sinceramente lui ha retto veramente il film ho fatto anche un video che è stato pieno di insulti per quello vedete che si è incazzata soprattutto commentatori uomini appena dice qualcosa guarda questo probabilmente per questo motivo della messa in scena eccetera potrebbe essere abbastanza misogino pare tipo che l'ha minacciato con un paio di forbici sul pisello non lo so si arrabbiano tantissimo ma hanno insultato tantissimo non capisci niente non lo so ha sembrato veramente l'ultime poracce le pescivendole sia da più tipo vedere uno scontro da Danielone e Tina Cipollari veramente gli uomini dovrebbero calmarsi un attimo ed essere meno isteriche o isterici miglior canzone c'è 50 sfumature di grigio cioè veramente no veramente vogliamo premiare 50 sfumature di grigio no poi c'è spettro ah quello c'è la di gaga secondo me faranno vincere la di gaga onestamente gli altri non è che mi sono piaciuti particolarmente 50 sfumature di grigio no non va nemmeno fatto vincere nemmeno doveva essere nominato come Silvester Stallone no ti facciamo entrare perché siamo gentili non siamo degli strunzi però sinceramente tu non appartieni a questo luogo caro Silvester no quindi secondo me vincerà Lady Gaga anche perché quella di Spectra sinceramente a me non è piaciuta per niente 50 sfumature di grigio no quella di Sorrentino sono felice se non vince quella di Lady Gaga potrebbe essere un grande momento e spero magari che se vince fa l'annuncio agli Oscar e dice pure due mezze parole su Kesha un po' stile Adele che mi ha fatto ridere l'altro giorno ho letto un twitter di una persona che fa che carina Adele vestita da passata di pomodoro che pensa a Kesha perché c'è Adele con sta tunica lunga tutta rossa pomodoro che faceva tutta così però è vero sembrava proprio una passata di pomodoro ma andiamo oltre ritorniamo con la nostra professionalità allora migliori effetti speciali sono candidati ex machina che sembravano fighi Mad Max Fury Road il sopravvissuto The Martian The Revenant in terra di vivo che sinceramente aveva degli effetti speciali no no molte cose sembravano finte poi io nelle mie ricerche ho scoperto che erano veri quindi no Star Wars risveglio della forza allora secondo me ho detto qualcosa Star Wars faranno vince perché agli Oscar loco da Disney non può mai mancare quindi secondo me potrebbero far vincere un Mad Max che se lo meriterebbe di più o ex machina secondo me ex machina perché sicuramente di premi maggiore non vinceranno cavolo quindi faranno vince quello miglior sonoro c'è il ponte delle spie che sicuramente faranno vincere questo visto che il resto non credo prenderà molto poi c'è Mad Max Star Wars The Martian il sopravvissuto e il re di vivo secondo me il sonore è figo Mad Max io provo a vederlo mi sono comprata pure il DVD no non ce l'ho qua io odio comprare i DVD onestamente non mi piace avere i DVD in mezzo per casa e roba del genere perché secondo me i film vanno visti solamente una volta ho questa cosa maniacale come per i vestiti idealmente i vestiti andrebbero messi solamente una volta e secondo me Mad Max senza le cuffie è una schifezza io l'ho visto la prima volta in cinema ed era una figata l'ho provato a rivedere in HD senza le cuffie ed era veramente un no l'ho messo con le cuffie ok era una figata di nuovo quindi fa veramente la differenza è redditivo no sto sempre zitto che sonoro c'è c'è una musica è una musica ogni 30 anni senti lui che fa cioè basta no ma che sonoro è Star Wars il sonoro io l'ho trovato molto sotto la media il sonoro è stata una delle cose principali di George Lucas quando uscì Star Wars perché c'era il Dolby Surround era una nuova tecnologia che era stata applicata quindi era veramente il top per Star Wars mi pizzica trippilmente il nato che come me non è stato adattato al meglio quindi no Star Wars poi c'è miglior montaggio sonoro Mad Max Sicario Star Wars sopravvissuto The Martian and Revenant anche qui Mad Max per me migliori costumi iniziamo a parlare di cose serie allora Sandy Powell candidata per ben due cose cioè io non so Sandy Powell può queste e altre come va perché lei vince perché lei è candidata sia per Carol sia per Cenerentola poi c'è Paco Delgado per The Danish Girl Jenny Bevan per Mad Max Jacqueline West per The Revenant è il redditivo cioè i costumi di Mad Max sono fighi però onestamente paragonati agli altri no secondo me vince Sandy Powell credo che vinca per Cenerentola però anche per Carol erano bellissimi i costumi di The Danish Girl mi sono piaciuti tantissimo però onestamente tipo più per la scenografia rispetto ai costumi per The Danish Girl se non vince per la scenografia rosico parecchio se vince per i costumi sì sono contenta però secondo me Sandy Powell se li merita cioè veramente 5 candidature e 2 sono di Sandy Powell io non so come sia possibile solo lei può solo lei miglior trucco acconciatura Mad Max Fury Road il centenario che saltò dalla finestra e scomparve The Revenant no erano dei trucchi molto più belli tipo Carol tipo Scenarentola ce ne trova dei trucchi fighi e veramente no ti fiamo Mad Max miglior documentario Amy Cartel Land The Look of Silence What Happened Miss Simone Winter of Fire non c'era anche il documentario tipo sugli stupri nei campus no forse è candidato solamente come colonna sonora per Lady Gaga non lo so io sinceramente voto o per Amy però boh il fatto che vengano premiati magari il padre sa cola perché sono veramente dei rapaci i genitori di Amy Winehouse e la cosa mi dispiace un sacco voterei per Miss Simone per il documentario su Nina Simone così anche se gli Oscar sono stati molto white questa cosa è un pochino meno white miglior cortometraggio documentario body team boh non ho visto nessuno quindi che se ne frega miglior cortometraggio ave maria boh qualcuno mi aveva consigliato qualcosa ora però non ricordo nulla miglior cortometraggio in animazione ma chi se ne frega andiamo avanti non ci interessa queste erano tutte le mie cose per gli Oscar voi fatemi sapere cosa credete che vincerà e chi ti fate realmente noi ci vediamo per un nuovo fantastico video dopo gli Oscar che commenteremo che ha vinto soprattutto se ha vinto Silvestre Stallone cioè no fatemi sapere voi che cosa ne pensate ne parliamo qui sotto se avete visto delle cose che mi consigliate soprattutto i cortometraggi che io non ho visto praticamente nulla fatemi sapere soprattutto della grande scommessa roba del gelbo ciao a tutti da Barbix and S yeah ciao a tutti